Centrosuono Centrosuono Speciale Sanremo Speciale Sanremo Calcare il palco dell'Ariston è un po' il sogno di tutti i cantanti e noi vogliamo parlarne con loro che lo calcheranno per la prima volta Sì, sono le 8 nuove proposte di questa 65esima edizione adesso è con noi Serena Brancale che canterà sul palco dell'Ariston nella sua galleggiare Ciao Serena Ciao, ciao Allora Serena Cosa rappresenta per te il palco dell'Ariston? L'avevi mai sognato? Sì, sì, l'ho sognato negli ultimi anni quando ho preso coscienza di quello che poteva essere il mio lavoro, la mia carriera presentando un disco, quindi l'ho sognato negli ultimi anni e per me è sicuramente un momento importante che può cambiare la mia vita Ecco, una grande emozione Serena, allora chi hai telefonato appena avuto la conferma della partecipazione al festival? Eh, allora, la prima telefonata che ho fatto era mia madre, però lei chiamava me e quindi non siamo riusciti a sentirci, a parlarsi e poi, vabbè, logicamente mia sorella e i miei familiari, le persone che hanno sempre chieduto in me, che mi sono vicine, l'ho chiamato loro, sì Certo, di solito hai un rito scaramantico prima di salire su un palco o hai ideato una posta, ne hai ideato una posta per questo Sanremo? No, 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 non ho nulla, non sono scaramantica però ti dico una cosa, l'ultimo provino che ho fatto per essere negli otto quello a Roma, quello decisivo prima di andare in hotel mi feci una foto una foto alla finestra e una foto pensando a Sanremo sperando che potesse andare bene il provino che stavo per fare e quella foto è ancora il mio dream server del cellulare ecco, non sono scaramantica però la foto la tengo e non la voglio cambiare Bene Torniamo al brano, Serena, che canzone è Galleggiare? Eh, Galleggiare è una canzone prima di tutto importante per me è una canzone che parla logicamente di una storia d'amore però è anche la metafora della vita perché Galleggiare è un po' come in tutte le situazioni quando non riesci a prendere una decisione che rimani a galla borderline tra una cosa e l'altra quindi parla di una storia d'amore ma Galleggiare è un po' una sensazione che è ricorrente per tutti noi in vari ambiti Assolutamente Serena, perché Galleggiare dovrebbe vincere Sanremo? Ecco, che domandona perché la canto col cuore la canto perché è una canzone autodisografica io mi vedo in quello che ho scritto un brano che tra l'altro ho scritto quattro anni fa quindi non è proprio fresco però la magia di Galleggiare è che io cantando questo pezzo riesco sempre ad entrare nel mood del brano e quindi riesco ad essere me stessa e a raccontare e galleggiare al pubblico E allora noi di Centrosuono ti facciamo il nostro in bocca al lupo tu la canterai col cuore e noi col cuore ci ascoltiamo Serena Brancale in Galleggiare Ciao Serena, grazie Vivo il lupo Ciao Centrosuono 101 e 3